Vittoria nel derby, lei mai si sarebbe immaginato di vincersi un derby all'Eugano in quel modo? Certamente no, con quel risultato lì non avrei mai pensato, però sono quelle partite che nascono in un certo modo e che sebbene condotte con un po' di fortuna, perché c'è stata anche un po' quella, siamo riusciti a portare a casa un risultato del tutto inaspettato. Non è che ci lamentiamo del pubblico, non ci lamentiamo della presenza o del supporto del pubblico che poi numericamente in proporzione è sempre piuttosto elevata nella media dato il bacino limitato. E' più che altro il fatto che qualche volta si pensa che da una serie B si possa anche fare un passo in più o essere più sulle zone alte, quando vediamo che capoluoghi di regione come Bari o come Reggio Calabria stanno soffrendo come noi o anche più di noi in certi casi, non ci sono state molte vittorie, non c'è stato moltissimo spettacolo dal punto di vista del calcio che abbiamo visto quest'anno. C'è una critica anche questa che dobbiamo fare e credo che magari nelle prossime partite si possa anche trovare quelle soddisfazioni che non abbiamo avuto finora, perché nove giornate non sono poche. E poi partite come quelle di sabato, un risultato raggiunto con tenacia come abbiamo fatto ripaga molto di molte insoddisfazioni che magari prima non siamo riusciti a dare al nostro pubblico. La Cittadella è sempre stata una società che ha sempre considerato che in caso di retrocessione non dobbiamo viverla come un dramma, come è successo per moltissime altre società che una volta le retrocesse sono sparite o hanno chiuso e sono fallite e sono ripartite da una serie D. Fermo restando che noi preferiamo restare dove siamo e non c'è dubbio che... Lo preferiamo un po' tutti. Anche dal punto di vista economico e finanziario per la società è un colpo comunque notevole. Io dico che sei anni non sono pochi, sei campionati di fila in serie B abbiamo fatto qualcosa di comunque molto importante.